Come potete vedere questa è una banana come la conosciamo tutti, è grande, dolce, buona, senza semi, ma non è così che madre natura l'ha concepita. Ecco com'era una banana circa 7.000 anni fa. E certo, non è un bel vedere e con tutti quei semi non era proprio la nostra banana ideale e così l'abbiamo domesticata, selezionando i frutti migliori, piantando i loro semi, facendo crescere le piante, selezionando di nuovo i frutti migliori e così via, fino ad ottenere la banana ideale, la Cavendish, quella che conosciamo oggi, che costituisce circa il 50% delle piante di banano nel mondo. Caratteristiche quali la dolcezza, la grandezza, la resistenza a patogeni, sono trasmesse da una generazione all'altra attraverso il DNA, che è contenuto in ogni cellula di ogni essere vivente. Il DNA è una lunga catena di basi azotate, chiamate adenina, guanina, citosina e timina, che costituiscono il codice della vita. Così come una sequenza di lettere forma delle parole, così una sequenza di basi forma dei geni, che hanno un inizio, una fine ed una lunghezza di alcune migliaia di basi. Alcune caratteristiche sono del tipo tutto o niente. Ad esempio, una banana, una pianta, può essere resistente ad un patogeno oppure no. Caratteristiche di questo tipo vengono dette monogeniche e sono dunque trasmesse da un solo gene. Chiamiamolo il gene della resistenza. Se la pianta eredita la versione corretta del gene della resistenza, allora sarà resistente, altrimenti non lo sarà. Ho usato il termine corretta, in quanto durante la copia del DNA da una generazione all'altra, possono essere introdotti dei piccoli errori, chiamate mutazioni, che possono alterare uno o più tratti, che se vantaggiosi vengono mantenuti ed espansi nella popolazione. E questo è alla base dell'evoluzione e permette alla pianta di adattarsi ad un nuovo ambiente e di competere con altre specie. A differenza della resistenza, non esiste tuttavia il gene della dolcezza. Allora, come viene trasmessa questa formazione da una generazione all'altra? Questo è un esempio di tratto poligenico, cioè contenuto non in un solo gene, ma in decine, centinaia e a volte migliaia di geni. I tratti di questo tipo sono di solito graduali. Ad esempio una banana può essere poco dolce, mediamente dolce, dolce oppure dolcissima. Anche l'uomo è cambiato nel corso degli ultimi settemila anni. Abbiamo dovuto adattarci ad esempio in Europa a vivere qui con il suo clima più freddo e a dipendere da altre specie, come le vacche d'allevamento, acquisendo così tolleranza al lattosio e perdendo la necessità degli occhi scuri per difenderci dal sole dell'Africa, acquisendo così altri colori. Altri tratti che sono in evoluzione sono ad esempio la perdita dei denti del giudizio e sembra anche la riduzione della massa celebrale. Il motivo di questo ultimo tratto non è ben chiaro, ma forse è dovuto al fatto che passando da nomadi a stanziali non abbiamo avuto più necessità di quelle capacità di orientamento nei boschi e di sopravvivenza nella natura selvaggia che occupano molte risorse. E probabilmente, chissà, con l'uso dei nostri dispositivi elettronici a cui fidiamo la nostra memoria si ridurrà ancora, chi può dirlo. L'evoluzione dell'uomo procede dunque senza sosta. Anche nell'uomo abbiamo tratti monogenici come ad esempio l'attaccatura del lobo all'orecchio o la presenza o assenza delle fossette o anche la capacità che alcuni di noi hanno di arrotolare la lingua. Tratti monogenici sono però anche quelli causativi di malattie genetiche rare, di solito purtroppo pediatriche, che sono causate da una singola mutazione in un singolo gene. Esempi di tratti poligenici invece sono ad esempio l'altezza, il colore degli occhi, il colore dei capelli, ma anche fattori di rischio per malattie comuni quali tumori, infarti, demenza senile, diabete. L'evoluzione dell'uomo dunque procede senza sosta, ma in maniera del tutto casuale, guidato dall'evoluzione naturale. Nell'uomo ad esempio ci sono circa 65 nuove mutazioni che vengono passate da una generazione all'altra. Alcune di queste mutazioni possono alterare uno o più tratti che, se vantaggiosi, vengono mantenuti nella popolazione. Oggi però siamo di fronte ad una rivoluzione. Cioè siamo di fronte alla possibilità che l'evoluzione dell'uomo sia guidata dall'uomo e non più dal caso. Proprio come l'uomo ha guidato l'evoluzione della banana. Oggi possiamo guidare la nostra evoluzione. E questo grazie a tre tecnologie di cui vi parlerò oggi. La prima delle quali è quella della lettura del DNA. Nel 2001, quando la prima bozza del DNA umano è stata presentata, è stata svelata, questo ha richiesto uno sforzo internazionale di oltre 10 anni ed un costo di circa 3 miliardi di dollari. Oggi, nel nostro istituto di ricerca, come in tanti altri nel mondo, abbiamo degli strumenti in grado di leggere il genoma e il DNA di una persona in meno di un giorno, ad un costo al di sotto dei mille euro. La tecnologia funziona attraverso colorare le basi del DNA con colori diversi, fotografarle e poi dall'immagine ricostruire la sequenza di lettere di basi che forma il nostro DNA. Quali sono le implicazioni di questa tecnologia? La prima, che già oggi è possibile leggere il DNA di ogni nuovo nato. Possiamo quindi individuare quelle mutazioni che, per esempio, causano malattie genetiche rare, alcune delle quali sono azionabili, nel senso che esistono terapie per prevenire o ritardare l'insorgenza della malattia. È possibile leggere il DNA anche prima della nascita e addirittura prima ancora del concepimento, grazie alla tecnica della fertilizzazione in vitro, in cui l'ovulo viene fecondato in provetta. In alcuni paesi è già permesso leggere il DNA dell'embrione prima dell'impianto per identificare quelle mutazioni, la presenza di mutazioni letali e quindi non compatibili con la vita. In questo caso, in questi paesi, l'embrione viene scartato e non viene impiantato. Prevedo che nei prossimi dieci anni, con l'aumentare del numero di persone il cui DNA sarà letto, saremo in grado di predire con più accuratezza anche tratti poligenici. Quindi, come vi ho detto, ad esempio, fattori di rischio per malattie comuni. Sarebbe dunque possibile associare ad ogni embrione prima dell'impianto qual è il rischio che l'individuo che nascerà dall'embrione svilupperà, ad esempio, tumori. Ovviamente, selezionare l'embrione in base alla presenza di queste mutazioni e di tratti poligenici desiderati non è eticamente accettabile e anche praticamente impossibile, dato la natura completamente casuale della presenza delle mutazioni dell'embrione e anche il numero elevato di mutazioni che conferiscono un tratto poligenico. Oggi, però, tutto questo sta per cambiare, anzi è già cambiato, grazie ad una scoperta di due scienziate che hanno individuato nel batterio dello streptococco, quello che causa la faringite, una proteina che vedete alle mie spalle chiamata della Cas9, la quale può essere utilizzata per legare il DNA e inserire, cancellare o modificare una base del DNA all'interno di una cellula umana. Già oggi, dunque, in laboratorio possiamo modificare il DNA di una cellula in una singola base e quindi anche dell'embrione prima dell'impianto. Questa tecnologia, insieme a quella della lettura del DNA e della fertilizzazione in vitro, è davvero rivoluzionaria per genitori affetti da malattie genetiche rare ed anche eticamente meno controversa, in quanto l'embrione, con la mutazione deleteria, invece che essere scartato, può essere semplicemente corretto inserendo la mutazione, la base corretta al posto della mutazione deleteria. Dopodiché l'embrione può essere impiantato e dall'embrione nascerà un individuo completamente sano. Nel corso dei prossimi dieci anni è possibile prevedere che saremo in grado non solo di modificare una singola base nel DNA, ma decine, centinaia e addirittura migliaia di basi. Questo cosa significa? Significa che potremmo conferire l'embrione anche tratti poligenici desiderati, ad esempio basso rischio di malattie oggi considerate comuni. Ovviamente questo apre un dibattito etico e quindi questo è quello che la tecnologia può offrirci. La terza ed ultima tecnologia di cui voglio parlarvi è quella della biologia sintetica che nasce dall'incontro tra ingegneri come me e biologi come mia moglie ad esempio e la biologia sintetica ha come scopo quello di dotare le cellule di nuove funzionalità utili all'uomo o all'ambiente. Lo scopo della biologia sintetica può essere raggiunto attraverso la costruzione di veri e propri circuiti biologici analoghi ai circuiti elettronici che oggi troviamo nei piloti automatici degli aerei o anche nel semplice termostato di casa. Ovviamente ingegnerizzare la biologia non è facile dato la complessità della cellula ed anche il fatto che questa a differenza di un aereo si duplica e si adatta all'ambiente. Per questo nel mio laboratorio stiamo lavorando a tecnologie per la costruzione di circuiti biologici robusti all'interno della cellula. Lo scopo, il futuro prossimo, quindi non lontano, ma quello prossimo della biologia sintetica è quello di sviluppare veri e propri farmaci viventi, ad esempio batteri probiotici, quelli che troviamo nello yogurt, che possiamo ingerire ma che sono stati modificati con circuiti biologici che li rendono in grado di riconoscere sostanze tossiche all'interno dell'organismo, in particolar modo per quei pazienti affetti da malattie melettaboliche rare e quindi curarli. È possibile anche inserire circuiti all'interno di cellule umane e questo già oggi sta rivoluzionando il trattamento dei tumori del sangue. Cellule immunitarie del paziente vengono prelevate dal sangue, è un circuito semplice ma efficace e viene inserito all'interno della cellula immunitaria rendendola in grado di riconoscere la cellula tumorale ed eliminarla. Le cellule così ingegnerizzate vengono reinserite nel paziente e possono, in alcuni casi, curare completamente il tumore. Ovviamente, come ogni tecnologia, l'uso che se ne fa può essere costruttivo o distruttivo. Ad esempio, è possibile immaginare in un futuro lontano, ma non troppo, che alcuni regimi totalitari possano imporre la fertilizzazione in vitro per legge ed obbligare l'inserimento di tratti poligenici desiderabili per il regime, quali una certa altezza, un certo colore degli occhi, ma anche, chissà in futuro, tratti psicofisici come bassi livelli di aggressività. Questo può sembrare uno scenario da fantascienza distopica, ma non è così. Nel corso di quest'anno, in Cina, un ricercatore ha modificato l'embrione, due embrioni, modificando un gene per conferire agli embrioni resistenza al virus dell'HIV, quello che causa l'ADS. Da questi due embrioni sono nate due gemelline, le prime al mondo con DNA riscritto. Purtroppo questo è stato fatto in maniera del tutto nascosta sia alla comunità scientifica che al pubblico, senza una vera necessità medica e senza alcuna giustificazione etica. I ricercatori in questione e oggi agli arresti domiciliari in Cina. L'unione della tecnologia di lettura del DNA, di riscrittura del DNA e della biologia sintetica apre però scenari davvero incredibili e spalanca le porte all'evoluzione dell'uomo guidata dall'uomo. Vogliamo davvero lasciare l'evoluzione al caso o vogliamo guidarla? E fin dove vogliamo spingerci? Per questo ognuno di noi ha il dovere di informarsi e prendere parte attiva nella decisione che la società dovrà fare su dove dirigere gli investimenti futuri della ricerca al fine di diminuire le sofferenze umane nel rispetto della libertà individuale. Grazie.